Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, vi faccio questo veloce video per dirvi che sto per andare in live ho dato una piccola sistemata, adesso, aspettate, ho dato una piccola sistemata qua intorno, vediamo di metrafuoco il pc, ho fatto l'aggiornamento della scheda madre, ho sistemato la scheda video come avete visto dal video ho montato il dissipatore a liquido, farò un altro video apposta per questo e poi ho messo qui tutti i vari prodotti, quelli per ovviamente le varie configurazioni, per tutti i vari video che dovrò portare e tanto altro per tutti quelli che invece mi chiedono di fare un giro della camera, diciamo, della postazione, di farvela vedere, ve lo porterò sicuramente e vediamo di metrafuoco, ok e niente, questo veloce video è per dirvi che questa sera, anzi adesso, probabilmente, sarò in live con l'assemblaggio della prima configurazione media, diciamo quindi partiamo con gli 5 e faremo i test, non credo, penso che lo monterò e poi chiuderemo il live e domani continueremo con i test quindi, se volete venire a farmi compagnia, scusatemi per questo video veloce, vi aspetto in live su Twitch, in descrizione trovate il link a dopo!